Buongiorno a tutti, qui Tecnarca, oggi vi mostrerò la seconda sfida della B3 della finale della Premier Challenge di Palermo di giorno 31 gennaio. Da una parte vediamo i Pokémon di Foco24, Kangaskhan, Sylveon, Tundrus e Arcanine. Guido invece userà Rotom Lavatrice, Amungus, Terrakion e infine Kangaskhan. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuta questa sfida. Vi ricordo inoltre di seguirci tramite la nostra pagina Facebook e il nostro forum, di cui troverete i link in descrizione, per rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda video, tornei e news Pokémon in generale. Spero che questa partita possa essere il vostro gradimento. Qui vediamo Guido che parte di Terrakion e Kangaskhan, mentre invece Fuoco24 parte di Kangaskhan e Sylveon. Qui Terrakion fa un anticipo che teoricamente dovrebbe bloccare il bruciabello del Kangaskhan di Fuoco24, che però non arriva. Sylveon che, essendo stolato, attacca prima di tutti, usa Gravoce per fare considerevoli danni a Kangaskhan. Qui, infine, il Kangaskhan di Fuoco24 usa Colpo Basso, mandando KO il Kangaskhan di Guido. Qui vediamo che sono entrati gli altri due Pokémon di Guido, che sono appunto Rotom e Amungus. Amungus fa polvorrabbi per cercare di attirare uno sdoppiatore che, infatti, arriva. Però Kangaskhan fa un brutto colpo. Inutile il brutto colpo, dato che comunque è stato appunto soltanto sul primo attacco, e ne avrebbe subito i due, quindi una potenza equivalente a quella di un brutto colpo. Qui Rotom è rimasto da solo, purtroppo fa fulmine, ma facendo veramente ridicoli danni a Sylveon. Il Rotom di Guido va a KO dopo due Granvoce e uno sdoppiatore da parte del Kangaskhan di Fuoco24. E così, in questa brevissima partita, Fuoco24 vince queste B3 e la Premier di Palermo, portando a casa ben 40 al Championship Point. Spero che queste partite siano state il vostro cadimento. Continuate a seguirci per poter vedere sempre belle partite in VGC. Un abbraccio dal Team Infinity. Grazie a tutti.